Ma vedo anche il professor Bennato, il professor Bragaglia e il professor De Luca Piccione che poi diranno la propria opinione sui film usciti ieri nelle nostre sale ma un pensierino notturno dedicato a Massimo Lopez Professor Bennato, andiamo a Catania Per me Massimo Lopez è sicuramente nel mio immaginario personale la telefonata che ti allunga la vita Io ricordo quello spot come una delle cose più divertenti che abbia mai più visto nell'ambizione pubblicitaria Poi ovviamente anch'io sono figlio della generazione che si è goduto i promessi sposi del trio quindi ci sarebbero un sacco di riferimenti a fare a Massimo Lopez ma i miei due preferiti sono la telefonata della SIP e i promessi sposi in salsa pop culturale Professoressa Bragaglia, l'offerta settimanale giudicata, analizzata e criticata da tre docenti Professor Bennato, professoressa Bragaglia e professor De Luca Piccione cominciamo con Catania Professor Bennato, poi andiamo a Bologna e poi andiamo a Napoli Allora per quanto mi riguarda, una delle cose che mi salta agli occhi nel vedere queste pellicole sono sostanzialmente due elementi il primo elemento è che sono tutte pellicole in cui il punto di vista è da parte di soggettività diciamo così che non sono sempre quelle dominanti per esempio in Billy è un ragazzo, in la versione di Anita è una donna molto forte che però è stata diciamo così nascosta dal marito, da Garibaldi i campioni, ci sono le persone disabili, spoiler alert, ci sono le persone omosessuali cioè c'è tutta una serie di punti di vista diciamo così non dominanti ma punti di vista che sembrerebbero minoritari invece riescono a dare una visione della contemporaneità molto forte questo è il primo aspetto il secondo aspetto che mi rende interessante queste pellicole la componente legata alla cultura digitale perché sono tutte intrise di cultura digitale pur non essendo manifestatamente espresse tipo in Billy si parla appunto che lui si è fatto alle ossa con un podcast in spoiler alert si usa il discorso sullo spoiler per dire appunto che già si sa come va a finire la storia ma questo non vuol dire che non si possa raccontare in modo particolare e ovviamente Spider-Man, lo Spider-Verse e A Cross The Spider-Verse ovviamente c'è tutta la componente un po' più lisergica delle culture digitali per quanto mi riguarda personalmente il film che mi ha colpito di più quello che più colpisce i miei interessi è Spider-Man A Cross The Spider-Verse io non sono un marvelliano, non sono un appassionato di fumetti Marvel però l'eleganza estetica e anche narrativa che ha questo modo di intendere il multiverso sia nella prima versione di questo film che ha questo suo sequel è qualcosa che me lo rende assolutamente bellissimo e straordinario ha un sacco di sfaccettature e soprattutto è in grado di prendersi in giro più di una volta poi c'è la versione di Anita perché mi incuriosisce in che modo rendere forte una donna che è stata molto forte ma che è sempre vissuta dalla storia, dalla narrazione storica all'ombra del marito che è un'altra personalità molto importante per la serie, diciamo così, per l'inversione della serie di la famosa frase di Virginia Woolf dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna in questo caso dietro una grande donna c'è anche necessariamente un grande uomo quindi non si dà l'uno senza l'altro perché altrimenti non potrebbe esprimersi e poi c'è The Boogeyman che ho sentito che non è un film, diciamo così la migliore espressione horror che mette insieme Stephen King e tutto il resto ma io c'ho un debole per i film horror anche senza jumpscare quindi credo che andrò a recuperarli in qualche modo Professoressa Bragaglia e poi il professore De Luca Piccione Commenti alla classifica dei professori Bennato, Bragaglia e De Luca Piccione Bennato Per quanto mi riguarda, guardando le tre posizioni forza a bell'occhio, speriamo che mantenga e possa scendere alla classifica invece per quanto riguarda gli altri due, non lo so nel senso che per me stendiamo un velo pietoso quello che mi fa piacere è che comunque si mantiene forte ancora i Guardiani della Galassia che pur essendo un film da supereroi comunque c'ha una vena autoironica che me lo rende molto molto simpatico Professoressa Bragaglia il suo commento? Buonanotte